MSI Katana, devo dire la verità avevo questo portatile nella mia lista desideri di Amazon praticamente da mesi, poi però per via di promozioni che sono capitate su Amazon ho preferito prendere la Cernetro 5 che vi ho mostrato in qualche video precedente e nel momento in cui gli amici di Flashback mi hanno detto guarda abbiamo questo tipo di portatile, vorresti provarlo, vorresti dirci la tua e fare una recensione non ho potuto resistere, quindi gli ho detto sì, me lo sono fatto mandare, non l'ho ancora aperto quindi lo aprirò insieme a voi e c'è da dire che rispetto ai 1700-1800 che lo trovavi su Amazon avevo la possibilità di acquistarlo ricondizionato praticamente a poco più di 900€ nello stato quasi nuovo, ed è una cosa che adesso devo verificare, lo verificheremo insieme è un'occasione che non vorrei lasciarmi sfuggire, ma in ogni caso ormai l'acquisto l'ho fatto quindi spero di aiutare qualcuno di voi, soprattutto spero di darvi una possibilità nel cambiare idea su ricondizionati perché personalmente ero uno di quelle persone che diceva no, io ho ricondizionato o no, nuovo, per forza nuovo però le cose sono cambiate, le cose sono cambiate perché ho avuto un modo di provare qualche iPhone ricondizionato ho avuto un modo di provare qualche smartphone ricondizionato certo, devi scegliere bene l'azienda, devi sapere bene a chi ti stai andando ad affidare stessa cosa per quel che riguarda i computer quindi andiamo ad aprire insieme questo MSI Katana e vediamo un attimo cosa ci aspetta ecco qua il nostro MSI Katana ancora un grosso ringraziamento a Flashman per avermi dato la possibilità di poterlo utilizzare di poterlo recensire adesso andiamo ad aprirlo tenete presente che questo è un grado come nuovo quindi mi aspetto di trovare qualche micro graffio, qualche micro lesione ma non in parti in cui diciamo possono inficciare l'uso, vale a dire ad esempio sul display o sul touchpad e cose di questo tipo quindi adesso lo analizziamo insieme, io non l'ho ancora aperto quindi sono curiosissimo e l'apertura è praticamente quella del tipo a valigetta quindi bisogna togliere questa linguetta dal basso dopodiché si vanno a sfilare quelli che sono i lati e si va ad aprire allora, innanzitutto vediamo cosa è presente all'interno sempre che non avevamo qualcosa qui sulla schivania ok, c'è prima di tutto una lettera da Flashman grazie per il tuo acquisto, la tua soddisfazione è molto importante ovviamente ci ha detto di lasciare una recensione se ci siamo trovati bene e ci ha chiesto di contattarli qualora ci siano problemi quindi grazie a Flashman, qui siamo da parte poi che altro ci ha dato? bello, questo mi serviva, visto che la mia compagna se li frega praticamente tutti per pulire gli occhiali perfetto, questo sia per gli occhiali che veramente anche per i display è un panno per la pulizia poi abbiamo un adesivo, simpatico e arriviamo alla parte succosa, vale a dire il portatile in realtà qui sotto c'è qualcos'altro, presumo sì, manualistica nel caso sia importante ve la mostro dopo ma andiamo a tirare fuori il portatile mettiamo lo scatolo da parte ed eccoci qua in realtà nello scatolo, adesso faccio fatica a farvelo vedere ma c'è anche l'alimentatore quindi tiriamo fuori anche l'alimentatore così vediamo un attimo visto che sulla Cernitro 5 vi avevo detto che obiettivamente era molto ingombrante l'alimentatore quindi mi sembra giusto vedere su questo MSI allora c'è chiaramente il classico cavo tripolare con una presa standard di quelle piccole questo è l'ideale perché praticamente si adatta a tutte le prese l'alimentatore in realtà è abbastanza piccolino adesso andiamo a tirare fuori è molto più piccolo del mio Cernitro 5 sicuramente molto più compatto direi assolutamente sì il mio è praticamente il doppio probabilmente a livello di dimensioni e questo è l'alimentatore che adesso andiamo a mettere da parte lo proveremo subito dopo andandolo a collegare e siamo arrivati finalmente alla parte succosa prima protezione via seconda protezione via togliamo queste altre protezioni e andiamo a sfilare il portatile portatile che è leggermente più pesante del mio così ad occhio vi dico che è leggermente più pesante dell'Aceo Nitro 5 wow bello obiettivamente molto molto bello molto più elegante del mio ha sempre comunque i richiami rossi però rispetto all'Aceo Nitro 5 è decisamente più elegante diciamo che ha molto più senso eccoci qua sono passate indicativamente un paio di settimane da quando ho fatto l'unboxing di questo MSI Katana GF6612U e sono pronto a dirvi la mia per potervi raccontare se questo tipo di notebook da gaming mi è piaciuto o meno è bene dividere questo video in scaglioni partendo dalla qualità costruttiva passando poi per touchpad e tastiera fino ad arrivare alla parte gaming che chiaramente è la parte più interessante di questo portatile per quel che riguarda la qualità costruttiva la cosa che meno mi è piaciuta sicuramente la vedete da voi la parte superiore che è totalmente in gomma per quanto possa essere molto resistente infatti non flette tantissimo anzi non flette quasi per niente trattiene tantissimo le ditate io sicuramente non ci ho mangiato su questo portatile eppure notate che ci sono ditate come se fossero praticamente sporche di olio difficile anche da togliere e mi basta come vedete fare una piccola striscia col pollice per lasciare ulteriori impronte ma questo portatile non è dotato solo di gomma di fatti nella parte immediatamente posteriore quindi in basso abbiamo tutta una griglia in plastica con la parte immediatamente in basso anche in plastica due ventole principali che servono per catturare a reazione da immettere all'interno del portatile allo scopo di raffreddarlo chiaramente quattro piedini più due piedini frontali e laterali per andare a sollevarlo tutto totalmente in plastica mentre la parte interna quella che fa riferimento a tastiera e touchpad trattasi di alluminio quindi decisamente più resistente sebbene comunque trattenga molto le ditate a livello di dimensioni abbiamo 359 mm di larghezza per 259 mm di profondità per 24,9 mm di altezza del portatile diciamo che è un portatile che si sente in mano anche perché pesa 2,5 kg l'alimentatore invece pesa molto meno intorno a mezzo chilo però dà l'idea di essere estremamente compatto a differenza di quello che vi dicevo per il mio Arceo Nitro 5 devo dire che questo dà proprio l'idea di solidità per quel che riguarda invece la ventilazione come vi dicevo prima ci sono due ventole nella parte bassa che portano aria all'interno del portatile che viene espulsa sia dalle due griglie che ci sono qui sul retro sia nella parte laterale a sinistra di fianco a quel che è l'alimentatore esattamente qui diciamo che è una soluzione che non mi piace particolarmente proprio perché l'alimentatore o comunque la spina tra virgolette dell'alimentatore è molto vicina a quel che è una bocca di aria estremamente calda specie quando state giocando avrei preferito sicuramente la presenza unicamente delle bocche sul retro e non quella laterale ma tant'è MSI si è vantata molto in questa serie di riuscire tramite quelli che sono i suoi sistemi di ventilazione nonché tramite il suo olio di raffreddamento di riuscire con queste tre soluzioni a raffreddare in maniera totale qualche portatile e devo dire che non mi ha deluso per niente venendo al design devo dire che questa è una cosa molto soggettiva devo dire che è anonimo sinceramente non si nota non dà né l'idea di un portatile da gaming né di un pc da lavoro a parte questa questione delle ditate diciamo che se l'ho portato all'università l'ho portato in ufficio nessuno noterà che questo è un portatile da gaming che può essere un pro che può essere un contro questa è una scelta vostra anche perché sinceramente io tutti i led che vedo nei portatili da gaming non è che li apprezzi particolarmente però probabilmente il logo di MSI l'avrei preferito in stile old style sebbene questo sia intagliato sia bello al tatto avrei preferito un qualcosa che si distinguesse quindi magari come era in precedenza come ad esempio avete visto in The Big Bang Theory rialzato e colorato sarebbe stato qualcosa di più bello secondo me veniamo a quali sono le porte a livello di porte abbiamo diverse porte a disposizione partendo dal lato destro abbiamo quel che è il primissimo microfono che serve più che altro per la riduzione del rumore l'ingresso del jack audio da 3.5 abbiamo la primissima usb a 3.2 poi abbiamo un usb c sempre 3.2 un hdmi 2.1 che supporta in uscita fino a 4k 60 hertz e classico cavo ethernet oltre che chiaramente è incluso sia il wifi con banda fino a 6x e bluetooth 5.2 nella parte posteriore non abbiamo nulla e qui se posso dire la mia mi manca la questione dell'acere che aveva delle porte qui che perlomeno venivano sfruttate nella parte destra invece abbiamo alimentazione chiaramente la bocca di ventilazione che vi dicevo prima una usb standard di quelle diciamo vecchiotte 2.0 ma abbastanza relativa come scelta e un'altra usb a di versione 3.2 nella parte davanti chiaramente pulito andando ad aprire poi il portatile abbiamo quelle che sono l'uscita a livello puramente di casse nonché a livello di calore lo noterete nel momento in cui lo andiamo ad utilizzare che questa parte diventa praticamente bollente le cerniere sono realizzate in questa maniera qua e devo dire che sono estremamente resistenti chiaramente il portatile per gli amanti si apre e si chiude totalmente con una mano non bisogna mantenerlo abbiamo poi qui in alto quelli che sono i microfoni e la webcam che registra praticamente solo a 720p a 30 fps diciamo una webcam decente certamente non una webcam di qualità va bene per l'uso da ufficio se pensate di streamare con questa webcam dimenticatelo infine l'alimentatore incluso in confezione che vi ho fatto vedere in precedenza adesso non ve lo prendo se no devo staccare di nuovo tutto è da 180 watt a livello puramente di dotazione devo dire che mi ha soddisfatto mi è piaciuto soprattutto per quel che riguarda la solidità di fatto a differenza dell'accio nitro 5 sebbene non mi piaccia molto la disposizione di quelle che sono le porte in questo caso ho avuto l'idea di un design solido di un prodotto che anche se trasportato anche se trattato tra virgolette maluccio sebbene trattenga molto le ditate mi ha dato l'idea di un prodotto che sarà resistente nel tempo idea che si è confermata anche nell'uso quotidiano e soprattutto nell'uso della parte successiva che vi racconterò in questo momento personalmente puramente a livello di design e di materiali il mio voto è 9 passiamo dunque all'altro aspetto che mi è piaciuto tantissimo ovvero tastiera e touchpad anche se c'è da dire probabilmente io mi fermerei solo alla tastiera il touchpad è relativo specie in un portatile da gaming è estremamente relativo va bene nell'uso tra virgolette una tantum quando non è a disposizione un mouse ma solitamente chi acquista un portatile da gaming il mouse è praticamente obbligatorio per quel che riguarda la tastiera cosa bisogna sapere vediamo innanzitutto se riesco a farvi un po' di ombre perché purtroppo le luci tendono a non mostrare quelli che sono i colori anzi facciamo così accendiamolo così almeno li vedete abbiamo una tastiera QWERTY completa con completa cosa intendo? intendo che ci sono chiaramente tutti i tasti ma ci sono i 12 tasti funzione oltre ai tasti implementati come stamp, ins e canch abbiamo il trasterino numerico sebbene sia realizzato diciamo in maniera abbastanza strana perché comunque solitamente siamo abituati ad avere parte delle operazioni nella parte destra ma avendo un tipo di costruzione così compatta ci troviamo in una situazione in cui le operazioni sono state espostate in auto diciamo che indicativamente per quelle poche volte che si utilizza il tastierino numerico in un portatile da gaming si poteva tra virgolette completamente ignorare si poteva omettere e magari dedicare un pochino più di spazio alla tastiera a QWERTY la cosa che mi ha convinto meno è sicuramente l'invio l'invio che come su tanti portatili MSI non è un invio completo vale a dire abbiamo un invio e il tasto U accentato e di conseguenza può capitare tante volte che durante la digitazione magari con il mignolo si vada a premere la U accentata invece dell'invio è una cosa che mi è successo molto spesso ci si fa l'abitudine? assolutamente sì era meglio mettere un invio tutto insieme togliere il tastierino numerico e mettere la U a sinistra? sicuramente sì ma in ogni caso ci si abitua a livello di solidità come per quel che riguarda la parte di monitor e di copertura esterna di cui parleremo dopo non ci sono flessioni e devo dirvi la verità a livello puramente di feedback di scrittura e notate anche quelli che sono i feedback puramente a livello di sonoro mi è piaciuto tantissimo mi ha dato proprio quell'idea di solidità e di risposta dei tasti leggera ma decisa cosa che obiettivamente sul mio vecchio Acernitro 5 non ho notato anzi notavo che si flette particolarmente tutto molto plasticoso qui diciamo il lavoro dell'alluminio dell'unione tra alluminio, plastica e gomma si nota particolarmente ripeto non è bellissimo a vedersi ma funziona e funziona bene a livello di tasti funzione inseriti da parte di Acer ne abbiamo praticamente tantissimi innanzitutto per quel che riguarda il tasto funzione è spostato a destra invece di essere presente nella parte sonnistra come solitamente poi abbiamo la possibilità di chiaramente mutare alzare e abbassare il volume tramite questa funzione possiamo disattivare il touchpad touchpad che in game funziona abbastanza bene cioè c'è la funzione dell'MSRI Center che consente di disabilitare automaticamente il touchpad nel momento in cui avviate un gioco ad esempio dopo avremo modo di provare Fortnite e io ho notato che nel momento in cui avvio Fortnite il touchpad smette di funzionare proprio grazie all'MSRI Center ma in ogni caso il touchpad non si muove nel momento in cui sente il palmo quindi è ben realizzato riesce a comprendere che magari in quel momento non stiamo cercando di utilizzare il mouse ma stiamo utilizzando semplicemente la tastiera e quindi di conseguenza non fa alcun tipo di movimento andando avanti con quel che sono la scoperta dei tasti abbiamo la possibilità di abilitare disabilitare quel che sono microfono e webcam di modo che non funzionino affatto e non catturino alcun tipo di rumore tramite la funzione F7 abbiamo una funzione fantastica avremo modo di esplorarla dopo ma sappiate che tramite questo tasto funzione avete la possibilità di cambiare quelle che sono le modalità passando da modalità intelligente che come avete visto è sinalata con intelligenza artificiale che riesce a comprendere esattamente che cosa state facendo in quel momento quindi ad esempio se state giocando automaticamente passa la funzionalità gaming oppure impostare a voi la modalità gaming passare ad una modalità bilanciata passare ad una modalità tra virgolette più tranquilla quindi ad usso tra virgolette relax quindi state vedendo serie tv e cose di questo tipo fino ad una modalità di risparmio energetico abbiamo poi chiaramente la possibilità di alzare ed abbassare quel che è la luminosità dello schermo la possibilità di proiettare ed infine qui sul tastierino diciamo a livello puramente direzionale abbiamo la possibilità cliccando chiaramente FN puntando in alto di attivare l'evento del massimo della ventilazione ve lo faccio sentire solo un attimo perfetto in aggiunta abbiamo la possibilità di mettere play pausa la possibilità di mostrare un minino a schermo che sinceramente ho trovato poco utile e nella parte immediatamente a destra abbiamo la possibilità di disattivare completamente lo schermo cliccando semplicemente due tasti particolarmente utile ad esempio se lo portate a lezione e non volete far vedere che cosa state facendo a livello di luminosità della tastiera mi è piaciuta sebbene c'è da dire che non c'è grossa personalizzazione che si possa fare su questo portatile infatti i livelli di colore della tastiera sono semplicemente questi vale a dire che nel momento in cui io attivo i tasti funzione la luminosità diminuisce di tre tacche quindi questo è il massimo questo è il medio questo è il minimo e questo poi è spento per poi tornare di nuovo all'università massima non è possibile personalizzare in alcun modo quali che sono i tasti colore quindi non è possibile cambiare i led non è possibile mettere effetti al cobaleno non è possibile mettere nient'altro mi è piaciuta questa cosa? no, diciamo che non ne ho bisogno ce l'ho sulla mia tastiera meccanica però in ogni caso non è un'esigenza importante l'importante è che sia retroilluminato i tasti diciamo questo tipo di fonte è iconico per MSI ma in ogni caso per uno che è abituato a scrivere la tastiera non la guarda neanche però l'importante per me era la solidità nel momento in cui vado a scrivere devo dire che questo portatile la solidità la dimostra in tutti gli aspetti a livello puramente di soddisfazione devo dire che la tastiera mi è piaciuta tantissimo e di fatti le do un voto 8 non le do un voto più elevato semplicemente perché non mi è piaciuta questa disposizione puramente del tastierino numerico non mi è piaciuto questo invio posto in questa situazione qui semplicemente troppe volte mi è capitato di cliccare sulla U accentata invece di cliccare sull'invio e il touchpad è un po' nì molto piccolo fa le sue funzioni base non ha funzioni accessorie noto che ci sono molti portatili che all'interno di qualche touchpad integrano un tastierino numerico poteva essere una soluzione probabilmente ma in ogni caso la tastiera è più che promossa se utilizzate un mouse assieme vi renderete conto che è un portatile che può aiutarvi sia in ambito gaming sia in ambito lavoro sia in ambito di studio passando oltre andiamo un pochino nel dettaglio per quelli che sono le specifiche tecniche di questo Katana GF66 12U c'è da dire che questa è chiaramente la versione italiana ma la versione che io sto andando a recensire in questo momento ha codice modello 12UD cosa intendo che ha questo tipo di codice modello che ha un certo tipo di configurazione ovvero Intel i7 di dodicesima generazione esattamente il 12700H quindi diciamo quello più performante che ha un clock standard a 3,50 GHz e in turbo boost può arrivare a 4,70 GHz 14 core e 23Hz quindi estremamente potente diciamo che il portatile mi ha dato molte soddisfazioni durante il gaming molto di più di quello che è in grado di fare il mio Acernitro 5 dopodiché abbiamo su questo modello montati 8 GB di RAM ma in realtà lui può fare l'upgrade fino a 64 GB di RAM senza perdere in alcun modo la garanzia difatti nel momento in cui andate ad informare qualche venditore che state facendo l'upgrade sia se lo acquistate nuovo informando Acer sia nel caso in cui decidiate di acquistarlo da parte di FlashMac in realtà possono anche farlo loro basta che le informate che volete l'upgrade e loro ve lo fanno e vi chiedono anche quanta RAM in più volete mettere potete arrivare perché ci sono due banchi di RAM a 64 GB addirittura di RAM quindi in questo momento c'è un singolo banco da 8 se non sbaglio su FlashMac viene venduta la versione da 16 GB ma qualora voleste nel momento in cui fate l'ordine potete chiedere di fare l'upgrade diretto a 64 GB di RAM come GPU abbiamo sia una scheda video integrata di Intel che va bene diciamo per le operazioni standard ma come notate qui in basso abbiamo un Nvidia GeForce RTX 3050 Ti con 4 GB dedicati la RAM per specifica è di tipo DDR4 a livello di archiviazione abbiamo due slot sempre aggiungibili e quindi si può fare facilmente l'upgrade sempre nella parte in basso due slot SSD NVMe di quarta generazione in particolare in questo caso io sto recensendo questa versione che ha un singolo slot occupato da 512 GB ma in ogni caso potete arrivare a mettere anche 2 TB da un lato e 2 TB dall'altro di modo da avere 4 TB lì non ci sono alcun tipo di limitazione personalmente specie per l'uso puramente gaming io consiglio di avere almeno un TB di disco semplicemente perché ormai i giochi hanno dimensioni stratosferiche specie ad esempio Assassin's Creed Valhalla che vi mostrerò più in avanti per farvi vedere come funziona capirete benissimo che se un gioco da solo occupa 120-150 GB diciamo che 5-6 giochi avete occupato tutto lo spazio quindi avere un TB può essere un'ottima soluzione personalmente se dovessi prendere questo portatiri oggi sceglierei sicuramente la versione con 2 TB sul primo SSD e 2 TB sul secondo anche in questo caso potete fare riferimento a FlashMac che automaticamente o meglio su richiesta può installarvi questi due SSD la batteria è integrata non è rimovibile diciamo in maniera semplice vale a dire che comunque dovete smontare tutta qui la parte in basso e andarla a rimuovere diciamo che fa il suo dovere non è un portatile che potete utilizzare per lungo tempo a batteria e soprattutto non pensate assolutamente di giocare con questo portatile mentre è a batteria dovete necessariamente collegare quel che è l'alimentazione altrimenti vi vedrete castrate quelle che sono le prestazioni in particolare ho notato facendo un benchmark che automaticamente il portatile fissa i valori massimi a 720p 30 fps che non è il massimo di fatti su uno smartphone probabilmente si gioca una qualità più elevata quindi consiglio nel momento in cui lo vogliate utilizzare in gaming dovete necessariamente portarvi l'alimentatore insieme e collegarlo alla corrente per quel che riguarda le specifiche tecniche il mio voto è 8 chiaramente il voto si alza nel momento in cui andate ad esempio a mettere 32 giga di ram e un tera di hard disk questo tipo di votazione è decisamente influenzata da qualche esperienza ad uso che ho avuto con il portatile utilizzandolo praticamente per due settimane difatti è penalizzata più che altro dalla ram anche se non mi ha dato alcun tipo di problema avendo solo 8 giga di ram 7 giga erano praticamente occupati costantemente anche se il portatile era totalmente in stand by e non stava facendo assolutamente niente certo nel momento in cui iniziavi a giocare parte della memoria veniva liberata per dare potenza al gioco ma in ogni caso è bene sottolineare questo tipo di aspetto quindi mio consiglio visto che c'è la versione su flashback a 16 giga di ram comprate almeno quella non dico di fare l'upgrade a 32 giga come avrei fatto io ma almeno quella da 16 giga per stare tranquilli non perché ne sia un'esigenza ma è un consiglio veniamo alla nota dolente la cosa che mi è piaciuta un po' meno e per farlo andiamo ad aprire il portatile di modo che capiate di cosa stiamo parlando esatto la cosa che mi è piaciuta un po' meno è il display il display non mi ha convinto è un 15,6 pollici di diagonale con risoluzione 1920x1080 quindi full hd antiriflesso e con refresh rate a 144 Hz le cornici sono abbastanza ridotte hanno questa forma diciamo un pochino più particolare che sinceramente mi ha convinto non mi ha convinto quelle che sono la resa cromatica e la qualità dei colori che sinceramente diciamo che si poteva fare un pochino meglio gli angoli di visione sono abbastanza discreti vale a dire si vede bene sia se andiamo a flettere all'indietro sia se andiamo a flettere in avanti ora è cambiata la schermata non vi allarmate ma in ogni caso si può fare di meglio personalmente utilizzo i portatili da gaming collegandoli sempre ad un monitor esterno quindi diciamo che se lo avessi come mio portatile principale non me ne sarei riso neanche conto ma nel momento in cui pensate di acquistare questo portatile e unicamente questo portatile ovvero senza monitor esterno senza tastire senza mouse esterno è opportuno notare che c'è questo aspetto qui vale a dire il display è discreto funziona bene la qualità dei colori non è fedelissima e la luminosità non è altissima quindi nel momento in cui lo utilizzate sotto la luce del sole potreste avere qualche problema in ogni caso il mio voto è 7 proprio perché comunque fa il suo e soprattutto il refresh rate è gestito benissimo vale a dire c'è una fluidità praticamente assurda impareggiabile detto ciò colleghiamolo alla corrente perché in questo momento sta facendo il benchmark praticamente a 720p 30 fps e vi faccio vedere come funziona in ambito gaming eccoci qua allora in questo momento state vedendo praticamente una registrazione di OBS quindi nel momento in cui state vedendo questa registrazione tenete conto che tutti i giochi che andremo a provare in questo momento saranno influenzati dal fatto che parte della potenza viene utilizzata per poter registrare qualche questo tipo di clip difatti lo notate nel momento in cui vado a prestazione che la scheda video Nvidia viene utilizzata attualmente al 70% per poter registrare questa tipologia di clip pertanto tenetene conto nel momento in cui devo avviare un gioco ho provato a registrare lo schermo utilizzando una videocamera esterna ma la qualità non mi è piaciuta penso che sia decisamente più opportuno farvelo vedere in questa maniera perché ritengo possa funzionare molto meglio vi faccio capire tante cose in più prima di passare al gaming e capire effettivamente come funziona questo MSI katana gf66 in particolare nella versione 12U è bene fare alcune piccole specifiche cercare di capire alcuni software che potranno esserci utili sia per monitorare quelle che sono le temperature sia per monitorare quelli che sono gli fps e soprattutto per comprendere alcuni aspetti che MSI ha voluto mettere in evidenza in particolare quello che voglio mostrarvi è l'MSI center infatti nella sezione monitoraggio hardware avete la possibilità di vedere immediatamente quali che sono utilizzo della CPU e utilizzo della GPU in particolare qui avete la possibilità anche di fare un boost vale a dire eliminare o comunque chiudere quelle che sono le applicazioni in background che vanno a consumare memoria e che di conseguenza potrebbero rallentare un tantino il gioco questa schermata io la tengo aperta più che altro perché ci consentirà di vedere quelle che sono le velocità delle due ventole che vi raccontavo prima lo stress puramente a livello di temperature sia sulla CPU sia sulla GPU e i clock sia della CPU sia della VRAM quindi della memoria relativa alla scheda video in aggiunta che cosa fa questo tipo di software questo software oltre a monitorare qualche hardware nella sessione feature avete la possibilità di implementare qualche la gaming mode che come vedete nel momento in cui avviamo Rocket League o Fortnite o Assassin's Creed Valhalla si avvia automaticamente anzi non so perché su Rocket League non si avvia evidentemente non lo considero un gioco difatti non me lo fa neanche inserire ma in ogni caso si avvia la gaming mode che cosa va la gaming mode prima di tutto va a boostare quelle che sono le prestazioni del sistema disabilita il touchpad come vi dicevo in precedenza fai in modo che si attivi la funzione true crawler in modo da garantire una migliore esperienza visiva e consente di registrare quelli che sono gli highlights del gioco per poterli poi condividere in seguito diciamo funzione relativa a questa ma in ogni caso c'è e la andiamo a considerare altro aspetto che voglio mostrarvi riguarda la questione scenario utente come vi ho mostrato prima tramite i tasti rapidi quindi premendo praticamente Fn ed F7 è possibile passare da un funzionamento automatico ed intelligente fino a prestazioni estreme particolarmente utile ad esempio in ambito gaming fino al bilanciato e il silenzioso che come vi dicevo prima lo potete utilizzare ad esempio quando vedete un film e cose di questo tipo e poi se volete risparmiare batteria questo tipo di funzionamento vi consente di risparmiare quanta più batteria possibile mentre sempre su feature andando qui su diagnosi sistema e diagnosi hardware potete valutare e fare dei test per verificare il funzionamento del vostro portatile particolarmente utile quando vi rivolgete ad esempio all'assistenza che magari vi fa qualche domanda vi chiede qualcosa e voi non sapete rispondere tramite questa diagnosi potete già voi capire cos'è che non va e poi comunicarlo magari direttamente all'assistenza funziona chiaramente sia sul sistema sia sull'audio quindi audio e tastiera sospeso del sistema touchpad hdmi eccetera eccetera immancabile nel momento in cui vi rivolgete la parte sostegno tra virgolette che è un po' diciamo tradotta malissimo è il live update live update vi consente di aggiornare quelli che sono i driver del sistema in questo caso vedete che sono tutti aggiornati quelle che sono le applicazioni Microsoft e eventuali consigli fatti da MSI ma in questo caso questo tipo di consiglio non ci interessa come vedete qui è tutto aggiornato pertanto possiamo iniziare altra cosa aggiuntiva qui vedete in alto c'è la funzionalità set feature vale a dire potete implementare all'interno del MSI center ulteriori cose cosa intendo ad esempio qui c'è il gaming highlights che vi dicevo prima volendo potreste rimuoverlo se non vi interessa nel mio caso non mi interessa posso rimuoverlo la questione delle diagnosi hardware di sistema di scenario utente in più potete aggiungere quelle che sono le analisi dei performance la priorità intelligente che consente di ottimizzare l'esperienza dell'utente per le applicazioni creative e l'analisi del wifi per vedere magari quelle che sono le prestazioni del wifi e andrò a ottimizzare ora lasciando la schermata monitoraggio hardware attiva di modo che riusciamo a comprendere esattamente che cosa sta succedendo al nostro portatile direi che è il momento di iniziare a giocare partendo dal gioco probabilmente meno esoso e meglio ottimizzato vale a dire Rocket League chiaramente nel caso di Rocket League come anche in Fortnite in Assassin's Creed Valhalla voi non avrete la possibilità di vedere quali che sono i 144Hz di contro dovete fidarvi di ciò che vedete a schermo in particolare cercherò di mostrarvelo in tutti i giochi quelli che sono gli FPS o comunque i grafici delle prestazioni di modo che possiate rendervi conto sto lasciando il volume attivo anche se c'è da dire piccola pecca il volume non è malaccio un po' robotico ma è basso quindi tenetene conto benissimo ho avviato Rocket League in questo momento voi dovreste sentire sia la mia voce sia l'audio che paradossalmente è al massimo del portatile diciamo che è molto basso l'audio ma in ogni caso nel momento in cui si attivano le ventole sappiate che praticamente non si sente più nulla noi onde evitare qualsiasi tipo di problema soprattutto a livello di copyright vado a disattivare in questo momento quel che è il volume che come potete vedere era praticamente al massimo delle sue potenzialità e fidatevi praticamente di quello che vi racconto prima di tutto andiamo a vedere quali che sono gli fps notate in alto a destra che a livello di fps abbiamo 144 fps fissi e l'uso di quel che è la cpu e la gpu li vedete praticamente in basso in realtà adesso se provo a cambiare devo cercare di mettere una visualizzazione più estesa i miei amici riusciranno a supportarmi nel frattempo mettiamo grafico delle prestazioni dettagliato ok adesso dovreste riuscire a vedere così vi rendete conto se ci sono fluttuazioni se ci sono mancanze funzionamenti che non vanno e cose di questo tipo ora cerchiamo di fare qualche azione magari non prendere troppi gol e vediamo un attimino nel frattempo vi invito chiaramente a guardare quelli che sono i frame in alto a destra che come vedete bene o male non si abbassano da quelli che sono i 144 142 140 eccetera eccetera questo chiaramente tenendo conto che sto registrando con OBS in questo momento quindi in ogni caso in teoria qualche prestazione in meno ci dovrebbe essere niente non si riesce a segnare io volevo chiuderla subito questa partita ma non si riesce perfetto 1 a 0 anche se ho influito praticamente 0 in questa partita ma in ogni caso vi serve a livello puramente di FPS per capire come sta andando il gioco vediamo un attimo quelle che sono le qualità come vedete 1920 1080 full hd con v-sync attivo scusate ma devo rinviare il pallone prima che prendiamo gol tornando a noi abbiamo anti-alizing disattivato alta qualità sui dettagli del rendering e fotogramma secondo impostato a 144 FPS il resto diciamo potete tranquillamente leggerlo da soli ma capite bene che in questo momento la 3050 Ti sta spingendo al massimo e lo sta facendo senza alcun tipo di problema di fatti non c'è alcun tipo di lag non c'è alcun tipo di rallentamento a livello di surriscaldamento non abbiamo alcun tipo di problema tramite la funzione che vi dicevo prima cioè premendo Fn ed F7 posso passare alla modalità gaming in cui le ventole e il processore vengono spinti al massimo ma dato che comunque questo tipo di gioco come vi dicevo non è particolarmente esoso non serve fare questo tipo di atteggiamento diciamo che già così funziona più che bene perfetto abbiamo fatto anche noi il gol così giusto da fare la bellissima figura loro stanno abbandonando direi che la partita è andata benissimo 3 a 0 con il terzo gol mio a coronamento e direi che possiamo passare oltre prossimo gioco della lista sicuramente uno dei giochi più giocati al mondo vale a dire Fortnite ma andiamo prima di tutto a chiudere ci prendiamo questo belloro 3 che io avevo perso e passiamo su Fortnite vediamo un attimo quelle che sono le temperature mentre apre come vedete la CPU è a 94 gradi la GPU a 64 gradi nel frattempo Fortnite si sta aprendo e di fatti le ventole che come vi dicevo guardate in sotto a destra si è attivata la gaming mode si è disattivato il touchpad questo è tutto totalmente automatico è una funzione che mi piace tantissimo le ventole sono già intorno ai 5000 rotazioni per minuto quindi sta iniziando a spingere perché lo sa che comunque Fortnite non è ottimizzato benissimo e di conseguenza necessita di molta più potenza di quello che abbiamo utilizzato per Rocket League benissimo Fortnite avviato direi che possiamo provare a giocare più che altro vi farò vedere un attimo come funziona vediamo se riesco ad attivare anche qui quelli che sono gli FPS ok mostre FPS vediamo un attimo dove sono mostrati gli FPS ok qui sotto in basso a sinistra sebbene sia piccolissimo ci sono gli FPS sono limitati a 120 FPS perché perché non lo so adesso vediamo cerchiamo un attimo di capire no non c'è limitazione ma in ogni caso Fortnite non va sopra i 120 FPS e quindi di conseguenza abbiamo questa limitazione automatica vedete qui quale che sono le impostazioni qualitative puramente a livello grafico e qui la partita non parte finalmente sta partendo la partita sebbene durerà pochissimo sia perché questo gioco non lo sopporto e mi faccio uccidere molto molto facilmente ma soprattutto perché dobbiamo passare oltre e farvi vedere un gioco un pochino più complicato ora notate questi lag e considerate questo tipo di aspetto vale a dire io sto giocando a Fortnite mentre sto registrando con OBS qualche la schermata e quindi di conseguenza gran parte della CPU viene utilizzata vi posso dire che i tasti W ASD sono caldi non incandescenti ma caldi diciamo che si sente il calore se andate un pochino più sopra praticamente sopra i tasti F1 F2 eccetera eccetera lì è praticamente incandescente i lag che notate non sono dettati dal gioco che come vedete bene o male viaggia come vedete sta intorno ai 90 poi c'è un calo 50 60 è dovuto alla mancanza di ottimizzazione ma sono dettati dal fatto che le persone continuano ad entrare e ad uscire e quindi di conseguenza sorge questo tipo di problema ora scendiamo giù adesso che la cosa è un pochino più stabile vedete le FPS in alto a destra siamo sui 50 FPS la media varia tra i 38 e i 60 FPS diciamo che già 60 FPS è godibile considerate che trattasi una 3050 Ti quindi comunque io qui morirò subito perché qui stanno persone che ti sparano e dicevo quindi comunque bisogna considerarlo questo tipo di aspetto che non è diciamo un tipo di dischi da video top di gamma questa va benissimo per l'uso che se ne può fare ma non è al top della qualità in ogni caso come potete ben vedere la cosa funziona abbastanza bene ora vediamo se riusciamo ad uccidere qualcuno senza farci uccidere noi giusto per farvi vedere come si comportano gli FPS e per farvi capire che effettivamente non sono così malaccio stanno questi bot e possiamo ucciderli innanzitutto io gli ho dato una mano a quello per cercare di ucciderli invece cerca di uccidere me e quindi mi sembra anche giusto che adesso salto e col fucile a pompa ti uccido perfetto c'è troppo casino qua qui ci stanno altre persone c'è una banana io considerate che non sento quindi non vedo che cosa sta succedendo mi butto anche in acqua perfetto ho ucciso la banana nel frattempo ho praticamente perso tutto lo scudo ma direi che ce li siamo comportati abbastanza bene c'è qualcuno che mi sta venendo a uccidere quindi facciamoci uccidere dai bot a questo punto e la chiudiamo qui tutti tranne te te no e tu hai finito le munizioni quindi in ogni caso abbiamo terminato non c'è ci sono solo bot qua e fanno fatica a spararmi perfetto bene direi che la prova è stata superata si comporta abbastanza bene vi dico che senza la registrazione di OBS riesco tranquillamente a mantenere quelli che sono i 90 frame per secondo che diciamo sono l'ideale qui in questo caso notate un calo anche perché sto facendo troppe cose assieme tra cui cercare di uscire questa persona qua che continua a starmi davanti memo per la prossima volta mai venire qua giù diciamo che le ho uccisi tutti dovevo morire ma non sono morto vediamo se troviamo qualcun altro che ci uccide sto con 15 di salute ok c'è la torretta facciamoci uccidere dalla torretta perfetto se spara questa torretta perché io non ricordo se spari qualcuno sta venendo qua vediamo se sta venendo qualche bot più che altro non voglio farmi uccidere da qualcuno di reale ah no vedi c'è qualcuno di reale ok mi sta uccidendo perfetto no non mi sta uccidendo ci sta mettendo troppo ad uccidermi oh morto perfetto allora direi che su fortnite è promosso e adesso lo mettiamo a dura prova ricordate sempre come vedete c'è la prememoria che ha salvato la mia eliminazione benissimo invece di salvare quando uccido le persone MSR è pensato bene di salvare quando mi uccidono a me ma va bene scelte in ogni caso adesso mettiamolo seriamente a dura prova passando al gioco probabilmente più esuso ovvero Assassin's Creed Valhalla nel momento in cui andiamo a chiudere fortnite sicuramente notate i 5000 pass vpm la temperatura di CPU e 90 gradi GPU a 62 gradi e adesso inizieranno a calare le temperature perché chiaramente è meno sotto sforzo quel che il computer e lui può tranquillamente raffreddarlo nel frattempo apriamo Assassin's Creed Valhalla che notoriamente ci mette una vita ad aprire e arriviamo a parlare anche di quello che è il prezzo che è una componente che va considerata nel momento in cui si decide di acquistare un portatile da gaming considerate che a livello di portatile da gaming sicuramente questo è un entry level dove per entry level solitamente si pensa ai portatili da 200-300 euro 400 euro massimo io parlo di portatile da gaming vale a dire portatili che possono essere realmente utilizzati con giochi AAA come quello che può essere Assassin's Creed Valhalla che sto aprendo in questo momento e lo si può giocare in maniera godibile vale a dire non devo scendere di qualità a 720p a 480p non devo scendere a 30 fps ma riesco a giocare bene in full hd chiaramente la qualità non sarà il non plus ultra non sarà ray tracing al massimo non sarà però funziona quindi quando parlo di entry level sappiate benissimo che faccio riferimento solo ed unicamente all'ambito puramente di gaming come portatile entry level puramente di gaming questo portatile si piazza per le specifiche tecniche da intel i7 di dodicesima generazione 16 giga di ram e 512 di memoria interna a come prezzo di listino 1.599 è un prezzo elevato probabilmente avendo 1 tera di memoria interna il prezzo sarebbe tranquillamente giustificabile ed è in linea con quelli di mercato diciamo che questo tipo di soluzione secondo me un 1.499 va benissimo soprattutto per quel che riguarda la parte costruttiva per l'ambito gaming potete vedere adesso Assassin's Creed Valhalla che funziona abbastanza bene vabbè adesso sono nell'animus ma in ogni caso vi posso assicurare che funziona abbastanza bene qual è il vantaggio però nel momento in cui lo andiamo a prendere ricondizionato come avete visto all'inizio del video io questo portatile l'ho ricevuto dagli amici di Flashmack che me l'hanno mandato in prova dicevo me l'hanno mandato in prova e quindi di conseguenza mi hanno chiesto di dire la mia su questo tipo di portatile quindi di fare una recensione di fare una videorecensione su Flashmack infatti il portatile viene venduto a molto meno come avete visto è nuovo non ha praticamente alcun segno di usura e viene venduto a 919 euro nella versione da 16 giga mentre questa come vi dicevo è la versione da 8 giga direi che a quel prezzo è estremamente competitivo questo visto è considerato che abbiamo una garanzia di un anno facilmente estendibile a quelli che sono due anni e soprattutto abbiamo la possibilità di richiedere a Flashmack un facile upgrade di quello che è il sistema interno quindi qualora noi volessimo chiedere a Flashmack di fare l'upgrade da 32 giga di RAM e 2 tera di a disco interno o 64 giga di RAM e un tera di a disco interno potremmo tranquillamente farlo ora queste scene violente mi auguro che YouTube non le consideri però purtroppo Assassin's Creed Valhalla è questo perfetto vi ho fatto vedere un attimo come funziona quindi personalmente il prezzo nella versione nuova secondo me più giustificato per i 16 giga di RAM e 512 di memoria interna è 1499 non 1599 il prezzo ricondizionato per come mi è stato dato questo portatile che praticamente è nuovo a di fuori del fatto che non ci sono tutti i sigilli che comunque la plastica si vedeva che era stata aperta ma il portatile sta praticamente benissimo non c'è nessun graffio non c'è nessun segno sia sul display sia su quel che è il tastierino sia su quel che è la keyboard non c'è assolutamente nulla che non vada in realtà su Valhalla io dovrei avere la possibilità di mostrarvi quelli che sono gli fps vediamo se ci riesco nel frattempo eccolo qua mostra fps in gioco li vedete in alto stanno 70 fps vi faccio vedere quelle che sono le prestazioni grafiche questa è la situazione attuale dopo aver giocato un pochino la grafica la notate qui i dettagli sono nella media bassi alcuni alti elevati chiaramente utilizzate il software di Nvidia GeForce per fare in modo che andasse a modificare automaticamente quelle che sono le impostazioni ma in linea riesce a mantenere tra i 50 e i 60 fps vi posso dire tranquillamente che nel momento in cui non registrate tramite OBS i frame salgono tantissimo semplicemente perché non so neanche come ho fatto a salvarmi non sembra ma in realtà OBS toglie gran parte di potenza a qualche il portatile benissimo abbiamo fatto la nostra uccisione ok questa non lo so se ve la faccio vedere ho paura che mi censuri tutto ecco perfetto ho ucciso un membro degli occulti senza neanche rendermene conto benissimo veniamo a quelli che sono le conclusioni vi dicevo per quel che riguarda il prezzo personalmente voto 7 nel caso in cui lo compriate nuovo a 1599 anzi probabilmente anche qualcosa in meno 1499 già più abbordabile ricondizionato da flashback in queste condizioni vale a dire come nuovo 919 secondo me è un ottimo acquisto di fatti non vi dico che cercato di consigliarlo a mio fratello cercato di convincerlo ad acquistarlo proprio perché mi sono trovato particolarmente bene nel frattempo questo sta cercando di uccidermi e quindi di conseguenza non li facciamo fare la nostra stessa fine niente questo ha deciso di farmi male e noi lo uccidiamo perfetto a livello di pro e contro nel frattempo che mi allontano a questa zona perché adesso stanno arrivando tutti qua ho cliccato un tasto a caso direi che possiamo arrivare a quelle che sono le conclusioni e andiamo a raccontare pro e contro allontaniamoci a questa zona è una zona fin troppo trafficata a livello di contro sicuramente abbiamo il display che è un display non di qualità diciamo così così a livello puramente di se devo dirvi la mia nel caso utilizzate display esterni questo tipo di cosa diciamo è facilmente risolvibile se utilizzate quello del portatile va bene ma non è il top se volete il top dovete salire necessariamente a livello di prezzo perché questo tipo di pannello full hd costruito in questa maniera con questa tipologia di colori non rende benissimo a livello di audio probabilmente la pecca maggiore perché è praticamente totalmente inesistente non si sente specie se avete le ventole attive come in questo momento dovete necessariamente utilizzare quelle che sono le casse non è godibile neanche nel momento in cui vedete un film e quindi magari con le ventole al minimo storico semplicemente non si sente quindi in ogni caso dovete fare uso di cuffie fra i pro troviamo sicuramente l'ampia varietà di porte facilmente utilizzabili tra cui anche l'usbc l'academy 2.1 particolarmente utile nel momento in cui volete ad esempio collegare appunto display esterni l'esperienza ad uso che francamente è non solo semplice perché come avete visto per poter giocare non ho dovuto fare alcun tipo di modifica non ho dovuto fare clic strani per attivare le performance massime ma fa praticamente tutto in automatico disabilite il touchpad attiva le prestazioni massime possibili è un'esperienza ad uso direi semplice ma affidabile sia per quel che riguarda diciamo il sistema in sé sia e anche soprattutto per quel che riguarda le prestazioni direi che da questo punto di vista MSI è assolutamente una certezza ed è il motivo per cui io l'avevo valutato come mio acquisto prima di decidere di puntare sull'acert puntare sull'acert semplicemente perché avevo a disposizione quel che è un display esterno tastiera meccanica mouse e quindi di conseguenza non ero particolarmente interessato a quel che è diciamo la solidità del portatile perché tanto l'avrei messo comunque su una basetta e quindi di conseguenza fosse stato un portatile totalmente in alluminio come totalmente in gomma come totalmente in plastica ho fatto diciamo di carta velina poco mi interessava tutta la situazione semplicemente perché non me ne sarei reso neanche conto nel momento in cui lo utilizzavo certo in mobilità l'ho sentita la differenza utilizzando questo MSI katana rispetto a il mio acernitro 5 e ultimo aspetto ma non per ultimo la tastiera è ottima vale a dire nel momento in cui lo utilizzate anche ad usufruicio chiaramente vi consiglio sempre di avere un mouse supplementare vi troverete assolutamente bene al punto come nel mio caso di chiedervi perché avete comprato un acernitro 5 invece di questo oltre che farvi idee strane vale a dire tolgo la RAM da quello tolgo la memoria da quello e mi tengo questa MSI katana ma tant'è non ho più l'età né tanto meno il tempo per mettermi a fare tutta questa tipologia di modifiche quindi obiettivamente mi terrò il mio acernitro 5 ma in tutta franchezza un po' mi son pentito di non aver acquistato questo MSI katana specie ricondizionato detto ciò se avete domande c'è la sezione commenti sarò lieto di rispondervi tutti i link che rimandano all'acquisto di questo MSI katana GF6612 U su flash mac ve li lascio direttamente in descrizione o nel primo commento spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto nel momento in cui state pensando di acquistare un vostro portatile specie se state pensando di acquistarlo ricondizionato e se vi interessano queste tematiche puramente a livello tecnologico vi invito ad iscrivervi al canale così da non perdervi i prossimi video noi ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti i prossimi video grazie a tutti i prossimi video